Davide Caparini, come commenta il passo indietro della RAI? La RAI ha lanciato il sasso e poi come al solito ha tirato indietro la mano perché il canone speciale non è da pretendere per i professionisti, i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori tutti coloro che utilizzano il personal computer per lavorare e quindi ci hanno provato, come fanno spesso, mandano questa lettera che sembra una ingiunzione di pagamento ma che non lo è, quindi i malcapitati che pagano poi entrano nel girone infernale del pagamento del canone RAI da cui è veramente difficile uscirne e la RAI ci ha provato e il suo direttore generale l'ha confermato proprio scrivendo alla commissione parlamentare di vigilanza che gli chiedeva conto ha confermato che ci hanno provato, non hanno alcun titolo per ricevere questo canone speciale però è andata così ancora una volta, non hanno neanche chiesto scusa ma hanno creato tantissimi disagi e penso a tutti coloro che inconsapevoli hanno pagato e che purtroppo ora si trovano a non poter vedersi restituiti i 400 euro che avranno versato Non hanno chiesto scusa ma anzi hanno criticato i media su come hanno divulgato la notizia Sì, questo è veramente pazzesco, pazzesco in quanto prima di tutto loro sono media è la tv di stato, è quella che fa servizio pubblico e quindi più di tutti gli altri dovrebbe essere chiara, diretta, autorevole e soprattutto non prendere in giro i propri utenti prima di tutto, cosa che invece hanno regolarmente fatto anche quest'anno e dopo di che i giornali non hanno fatto altro che scrivere le denunce di chi come la Lega Nord da subito ha visto che era una truffa e che quindi ne ha preso atto e ha cercato di avvisare il prima e il più possibile coloro che avrebbero potuto incorrere in un pagamento non dovuto Grazie a tutti